oggi vi facciamo vedere quanto è facile l'utilizzo della stampante primera eddy per dolci con inchiostri edibili scarico un'immagine imposto il file velocissimamente la scansione permette di intercettare il biscotto e in pochissimo tempo ho un'immagine stampata per personalizzare i dolcetti con eddy possiamo stampare su tantissime varietà di dolcetti ovviamente le prestazioni migliori dimostra quando c'è una glassa una glassa di zucchero con una ricetta opportuna veramente in pochissimo tempo riesco a creare una linea completa un bastoglio completo di dolcetti personalizzati guardate quanto è veloce e quanto è perfetto il risultato la resa di stampa andiamo avanti abbiamo dato un processo di stampa complesso sono più tavole di disegno quindi la stampante dopo aver lavorato sul singolo dolcetto attende il prelevamento e con la freccia ritoglio il comando di stampa ogni volta effetto la stanzione per riposizionare la stampa quindi io posso guardate che bellino posso metterlo così in una posizione qualsiasi e le parte questa è la modalità di immissione manuale questa lingua che si estrae può anche interagire con un carosello automatico per la distribuzione di 16 concetti quindi vediamo che passiamo da immagini con grafiche completamente diverse quindi quelle più watercolter e quelle più piene e la stampante perfettamente riproduce la grafica una stampante che si regola completamente da sola e comunque ha tutti i parametri di configurazione per la regolazione del colore per passare da una qualità di stampa più rapida ad una qualità di stampa per esempio più definita e più satura di colore quindi in base poi alla superficie sulla quale stiamo stampando possiamo perfezionare le nostre lavorazioni amin Grazie a tutti